Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 8 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Orosco Pariete. Apparire piace ma costa. La voglia di bellezza e bontà, da gustare sia con gli occhi che con il palato me lo regala la coppia luna venere sensuale e goduriosa in seconda casa. Velleità purtroppo sconfessate dal severo Plutone che fiacca la bianca signora con una quadratura, raccomandandovi parsimonia, doverosa in questo periodo di crisi globale, navigando a vista tra gli scogli dei rincari. Tutto bene finché c'è una somma sulla carta di credito, ma quando poi vi tocca ricaricarla e scoprite il senso della vacuità, non tentate di chiedere sovvenzioni agli amici, ve le negheranno seccatissimi. Sensibilità ferita da una parola di troppo, ma la ragione sta dalla parte di chi vi redarguisce, non confondete la vere con l'essere. La felicità, un rapporto cresce e matura, una coppia nasce con buone prerogative e un concreto futuro. Armonia e annuncio di fidanzamento, matrimonio, convivenza. Gioie profonde in amore che si consolidano e sfociano in rapporti felici e duraturi. Ritorni in amore, gioie condivise, tra pacificazioni importanti e definitive. I single presto avranno un nuovo amore e una nuova vita felice. Giorno poco adatto ai cambiamenti. Cerca di tenere stretto quello che hai. Possibilità di avanzamenti della professione per i nati di sabato e giovedì. Mostratevi più convinti in quello che fate. Oggi è un buon giorno per colloqui di lavoro o per parlare con i vostri capi. Abbiate fede e maturate in voi la convinzione che potreste anche ottenere più di quello che chiedete. Una persona del capricorno catturerà la tua attenzione. Evita speculazioni, investimenti, prestiti e spese poco ponderate buon influsso di Giove sulla vostra situazione economica, qualche bagliore si intravede già che indica la fine del tunnel nel quale, bene o male, vi siete cacciati. Potreste comunque ottenere molto di più dalla vita. Sconsigliato prendere decisioni affrettate in amore, rendetevi conto che prima o poi anche per voi arriva il momento di prendere le decisioni giuste, ma pensateci bene prima di prenderle. Oggi i nati tra le 18 e le 22 di lunedì e giovedì raccoglieranno i frutti di un buon lavoro. Siate più cordiali e cercate di costruire con il vostro partner un rapporto nuovo, in fondo cercate in due la stessa cosa. Lasciate fuori la porta ogni preoccupazione o ogni ansia, Marte oggi promette, con l'aiuto di Giove, un'ottima giornata anche se qualche nube potrebbe addensarsi in serata. Oggi il tuo rapporto di coppia vivrà una fase spensierata e piacevole e il momento è propizio per consolidare le unioni nate di recente. Mercurio fa risplendere la vostra forma psicofisica, mentre il carisma si innalza alle stelle. Il pianeta vi accoglie con un sorriso sorgnone non potete fare a meno di avvertire un istintivo senso di fiducia e di benessere. Freschi di esercizio alla fatica psicofisica e visto quanto il periodo appena trascorso vi ha messe alla prova, ma anche rinvigoriti, non avete che pensare ora di organizzarvi, con il relax che vi siete meritati. Se l'amore c'è e le burrasche dei giorni passati e le follie si acquietano in uno stilo di vita più tranquillo e rassicurante, con la luna e venere in seconda casa, la possessiva, il partner è vostro e nessuno ve lo porterà via, a meno che non siate voi a lanciare segnali di libero accesso. Per i cuori solitari si rafforzano le amicizie, venandosi di amicizia, senza impegni né promesse, ma una notte malandrina ci sta. Amore ed eros. Fissati su una persona che magari nemmeno vi vede, gli amici non fanno che ripetervelo ma voi continuate imperterriti, più ostinati di un mulo. Un filo di possessività gratuita anche in coppia, non avete ragioni per dubitare eppure lo fate. Scambio di opinioni tra amici, dopo qualche screzio, per addolcire l'amaro che vi è rimasto in bocca, non vi resta nulla di meglio da fare che riempirvi la bocca di gelato alla vaniglia. La luna toro benevola espande il tepore degli affetti familiari che vi avvolge in un morbido comfort e la vostra coppia vi si inserisce in modo armonico, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 27 al 31 di marzo. Se invece il viaggio alla volta dell'amore vero, quello corrisposto e stabile, non è terminato, il vostro spirito inquieto è possibile che questo giorno si ristori in un'isola felice, dove poter tirare, temporaneamente, i remi in barca. Se siete ragazzi alle prese con le prime esperienze non vi lasciate frastornare da ideali di amore impossibili. Saturno vi offre adesso la possibilità di costruire il vostro rapporto d'amore con una persona fedele su base di stima e di buon accordo sessuale. Lavoro e denaro A giudicare dalla voglia di fare, spappolati come vi sentite dopo un congresso o il faticosissimo weekend che stentate ancora a lasciarvi alle spalle, ve ne stareste tranquillamente a letto a poltrire, ma il capo è di tutt'altro avviso e ve lo fa capire senza mezzi termini, non si può pigliare ferie o permessi a proprio piacimento, chiamando oltretutto a pochi minuti dall'orario di entrata, stavolta non ve la darà buona. Nemmeno i colleghi si dichiarano propensi a coprirvi, una volta passi, ma poi. Supporto dal fronte amicizie anche per un problemino finanziario, ma non sarete voi a chiedere, caso mai loro a ottenere. Svolgete una professione a contatto col pubblico. Mettete a frutto i guadagni che vi sono giunti con un azzeccato investimento nella vostra attività e allargate lo spazio di mercato. Mercurio spiana i vostri passi. Benessere. La salute viene dal piatto, oggi un po' troppo pieno ma se lo fate solo di tanto in tanto, quando siete stressati, ci sta. Dolce fatto in casa seguendo pedissequamente la ricetta della nonna o acquistato al supermercato, l'essenziale è che vi addolcisca anche il cuore. Per lei, acquisti sfiziosi, tutt'abbigliamento e cosmetici, fa eccezione qualche libro, bella facciata ma con sostanza. L'estetismo vacuo non è nelle vostre corde. Per lui, fissati su una donna che nemmeno vi vede, gli amici tentano di schiudarvela dalla mente ma in vano. Quanto siete testardi. Colore delle emozioni, rosa cipria. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 6, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.